Come è andata questo congresso nazionale? Questo convegno che celebriamo qui in Calabria l'abbiamo già celebrato diversi anni fa e lo stiamo vivendo anche quest'anno. Io penso che sia andata molto bene perché stiamo vivendo un momento intenso di comunione nel movimento Vivere In e poi questa simbiosi anche con questo territorio così bello, così ricco di tante sollecitazioni. Quindi tra ascolto e profezia mi sembra un tema che oggi più che mai è attuale perché siamo invitati ad ascoltare e anzitutto ad ascoltare la parola di Dio che è la guida al nostro cammino. Puoi ascoltare la storia, ascoltare la storia vuol dire ascoltare gli uomini, ascoltare i fratelli, ascoltare il grido della natura e poi questo ascolto non può esaurirsi, è finalizzato a se stesso, ma deve diventare proposta ed ecco la profezia. Questo tempo difficile che significa impegnarsi per i cattolici? Significa anzitutto rafforzare un'identità che è quella di Gesù Cristo che è venuto a dare una svolta alle relazioni tra gli uomini. Credo che il messaggio più profondo che il Signore Gesù ha portato sulla terra è proprio questo. Ha detto a tutti quanti di essere fratelli, fratelli liberi, quindi la fratellanza, la libertà, l'amore. Sono queste le coordinate lungo le quali il cristiano deve camminare, intanto come convinzione personale che diventa poi vita e diventa azione pratica. Quindi il cattolico deve essere un uomo presente nella storia ma con un volto, un'identità e con un'azione ben chiara che è quella appunto di proiettarsi all'esterno verso tutto quello che ci circonda. Perché il congresso nazionale di vivere in quest'anno si fa proprio in Calabria? È stata una tappa veramente evoluta e ricercata. Il 47esimo convegno nazionale non si teneva in Calabria da 25 anni. È stata una scelta perché la Calabria è una terra di grandi fermenti, anche di grandi contraddizioni. Però è una terra dove naturalmente avviene quella sintesi tra pensiero e azione e il tema del convegno ci spinge a questo, tra ascolto e profezia. La Calabria è una terra che sa ascoltare, che sa ascoltare e sa anche, come dicevo, fare sintesi tra culture diverse, nazionalità diverse, storie diverse. Quindi quale luogo migliore.